Finalmente le immagini del primo congresso apostolico mondiale della misericordia sono state raccolte in un dvd che permette di rivivere le emozioni di questo appuntamento dedicato al tema della misericordia di Dio che ha avuto luogo a Roma nella primavera del 2008. All'incontro hanno preso parte rappresentanti dell'Europa dell'Est, lituani e bielorussi, cristiani delle chiese sorelle e credenti di altre religioni. Nel documentario prodotto da Cansaonova si torna sullo svolgimento del congresso scandito da testimonianze messe animate dalle nuove comunità come Shalom, Focolari e Neocatecumenali e Musical. Giovanni Paolo II era molto legato alla divina misericordia sulle orme di Santa Faustina Kowalska, polacca anche lei e promotrice di questa devozione. Durante la messa finale nella Basilica di San Pietro il cardinale Christof Schomborn ha raccolto il frutto di questo congresso ricordando le parole di Benedetto XVI, la misericordia è il nome stesso di Dio. Il cardinale polacco e segretario personale di Giovanni Paolo II Stanislaw Civic ha espresso l'auspicio che il prossimo congresso mondiale si tenga a Cracovia fratelli. Sono apposti alla casa del Signore per tutti.